Arriva un'ondata di freddo e anche il Vesuvio, come tutti gli anni, si imbianca di neve. Di notte, in città, il termometro si abbassa fino a 3-4 gradi, nel rispetto della norma stagionale. Una temperatura che però può diventare un pericolo per le persone senza fissa dimora, che non hanno una casa e abitano per strada. A partire dal 12 febbraio, le stazioni Van Vitelli e Dante della linea 1 resteranno aperte per tutta la notte per consentire alle persone bisognose di ripararsi dal freddo. Per ragioni di sicurezza, in ogni stazione resterà aperto un solo accesso, quello di via Toledo per la stazione Dante e quello di via Bernini per la stazione Van Vitelli. Le stazioni saranno presidiate da agenti della vigilanza.